Le scuole in Campania resteranno chiuse e non c'è ancora una possibile data di riapertura. Entro il weekend l'unità di crisi della regione analizzerà dati e situazioni dello screening del personale sanitario al momento ancora molto basso e il governatore dovrebbe firmare una nuova ordinanza di conferma dello stop delle elezioni, a confermarlo allo stesso Vincenzo De Luca durante il tradizionale resoconto del venerdì su internet nel giorno in cui i contagi hanno ripreso a salire. 4.226 nuovi casi di Covid registrati ieri, di cui 593 con sintomi e 3.633 asintomatici su 27.649 tamponi processati nelle ultime 24 ore. La percentuale di positivi sui tamponi è stabile al 15,4%. Si registrano anche 25 decessi e 1.395 guariti. Dall'inizio dell'emergenza Covid a oggi in Campania ci sono stati 129.502 contagi su 1.383.104 tamponi. I deceduti sono 1.217, i guariti 29.293.